C'è grande fermento tra i maestri carristi all'interno della fabbrica del Carnevale di Fano di Viale Piceni. Anche quest'anno parte il tour di Fano TV alla scoperta delle nuove realizzazioni che vedremo sfilare lungo Viale Gramsci il 9, 16 e 23 febbraio. E chi meglio dell'associazione Gomma Piuma per caso, attraverso l'idea del maestro d'arte Valeria Guerra, tra cui autrice del bozzetto, può trasmettere tutto questo? Noi siamo andati ad intervistarla e a chiedergli il significato del carro. Il titolo del carro è tutto nelle nostre mani, appunto perché rappresenta due mani che sono l'umanità, le nostre mani, che hanno rovinato il mondo con l'inquinamento tramite il petrolio, tramite le fabbriche, tramite la terra arida e comunque si vuole essere un messaggio di speranza perché sempre con le nostre mani possiamo dare un segno di speranza a questa terra e migliorarla con energie alternative. Infatti abbiamo rappresentato delle paleoliche e i fiori che rappresentano la fioritura comunque del pianeta.